Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il corecomo Piemonte Io sono Marco Breamonte, commissario del corecomo Piemonte appunto e in questa occasione ho piacere di parlarvi di una delle tante funzioni che ci occupano quotidianamente e in particolare quella della tutela della parità di genere tutela della parità di genere e conseguente contrasto a ogni tipo di violazione di questo principio fondamentale che è tutelato dalla nostra Costituzione e che quindi sta particolarmente a cuore al nostro ente Che cosa facciamo in concreto per tutelare la parità di genere anzi per promuoverla e per prevenire eventuali violazioni di questo principio fondamentale? Due leggi della regione Piemonte del 2016, una del febbraio e l'altra del marzo del 2016 hanno proprio voluto evidenziare l'assoluta necessità e il fatto che sia fondamentale tutelare la parità di genere Nel concreto il corecomo Piemonte oltre che promuovere tutta una serie di iniziative culturali ed educative volte appunto a far conoscere l'argomento, ad approfondirlo e a diffonderlo il più possibile monitora in particolare le trasmissioni radio-televisive di tutte le emittenti locali proprio per cercare di individuare eventuali violazioni di questo principio fondamentale Ad esempio ogni anno viene fatto un report a seguito di questi monitoraggi in cui si evidenzia appunto ad esempio il tempo che viene lasciato o a categorie di uomini o categorie di donne proprio per vedere se vi è una differenza netta, sostanziale e purtroppo bisogna rilevare che ultimamente questa differenza continua ad essere abbastanza consistente quindi il corecom continuerà ovviamente a cercare di promuovere la tutela della parità di genere e in quest'ottica, ad esempio quest'anno in occasione del Salone del Libro ha promosso un incontro con, oltre che con tre esperte del settore che hanno quindi comunque spiegato quali sono i valori fondamentali delle necessità fondamentali per affrontare questo argomento ha coinvolto anche due classi di bambini di una scuola primaria di 10 anni proprio perché si ritiene che sia necessario e fondamentale promuovere l'argomento sin dalla più tenera infanzia proprio perché così i nostri bimbi possono crescere già con una sorta di imprinting volto appunto a tutelare questa parità di genere più o meno nello stesso ambito rientra anche un'altra forma di tutela che è quella della lotta al cyberbullismo e quindi in quest'ambito il corecom anche qui ha messo in pista una serie di azioni volte a promuovere una cultura che sia appunto volta a cercare di limitare il più possibile gli episodi di cyberbullismo e anche sull'argomento abbiamo promosso un ulteriore evento al Salone del Libro proprio coinvolgendo anche qui dei ragazzi delle scuole medie e inferiori che hanno potuto confrontarsi anche qui, anche in questo caso con degli esperti proprio per cercare di diffondere il più possibile l'argomento e cercare di ottenere i migliori risultati possibili nel minor tempo possibile queste sono tutte esperienze che vengono applicate non dico quotidianamente ma comunque settimanalmente proprio nell'auspicio di poter diffondere il più possibile questi messaggi positivi volti appunto a cercare di dapprima prevenire e poi eventualmente reprimere eventuali violazioni di questi principi fondamentali violazioni che purtroppo a volte avvengono e quindi in questo caso il Corecom ha il compito di raccogliere eventuali segnalazioni provenienti dagli utenti, dai cittadini, da chiunque voglia farlo semplicemente collegandosi con il sito del Corecom dove potrà reperire ogni tipo di riferimento utile a mettersi in contatto con noi e a fronte di queste segnalazioni il Corecom ha il dovere di segnalare agli organi competenti appunto tutte queste violazioni affinché gli organi competenti possano porre in essere tutte le azioni più efficaci per cercare di reprimere ogni tipo di azione appunto conseguente in questo caso appunto noi saremmo ben lieti di accogliere ogni tipo di richiesta dei cittadini o comunque degli utenti in generale e quindi vi attendiamo numerosi anche per questo tipo di problematiche vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione grazie benvenute e benvenuti in Togo, piccolo stato dell'Africa occidentale dal 2008 le associazioni Eccomi e Tengo al Togo collaborano per portare sviluppo ed opportunità alla popolazione del villaggio di Asrama nella regione degli Altopiani qui a Neciro con l'aiuto di numerose donazioni ed altrettanti volontari sono riusciti a portare in questa piccola comunità un ambulatorio attrezzato con sale per le visite una farmacia fornita il reparto materno infantile centro nevralgico del loro progetto e il prossimo anno questo centro medico verrà ampliato con un blocco operatorio nel quale potranno essere svolte operazioni di piccola chirurgia tutto ciò è portato avanti grazie al lavoro di operatrici ed operatori sanitari seri e preparati che con passione portano avanti uno dei diritti più importanti quello alla salute purtroppo però in questa realtà rurale del Togo come in tanti altri stati del continente africano le scuole si trovano in condizioni fatiscenti o sono totalmente assenti e ciò comportano enorme dispersione scolastica o una completa assenza di istruzione a danni di ragazze e ragazzi ed è per questo che da qualche anno le due associazioni lavorano anche per aiutare le studentesse e gli studenti del cantone di Asrama facilitando il loro accesso all'istruzione e alla scolarizzazione dando loro la possibilità di potersi costruire un futuro e così sono nate sempre grazie a generosissime donazioni due classi per la scuola materna un liceo e una biblioteca dove gli studenti possono prepararsi prendendo in prestito numerosi libri e ritrovarsi tutti insieme per studiare e i bambini possono imparare giocando eccomi e tengo al Togo non si fermano certo qui e nemmeno all'Africa rimbocchiamoci le maniche tutti insieme e diamo al Togo e all'Africa una nuova speranza grazie la mortalità materno-infantile è molto elevata nei paesi dell'Africa subsahariana dove si trova il Togo le cause di morte per le mamme sono rappresentate da emorragie ed infezioni questo si verifica soprattutto nelle aree rurali del paese dove tutte le strutture sanitarie sono poche e carenti di mezzi e personale inoltre le donne spesso non accedono alle strutture sanitarie per molti motivi quali la lontananza dai centri di salute pubblica l'elevato tasso di analfabetismo la povertà l'attaccamento agli usi e i costumi locali il ricorso alla medicina tradizionale il progetto di Tengo al Togo promozione della salute materno-infantile nell'area del cantone di Asrama si propone come obiettivo una campagna itinerante nei villaggi per sensibilizzare ed informare sui temi della gravidanza e del parto il centro sanitario di riferimento è il centro medico di Asrama la cui maternità è già stata adottata dalla nostra associazione di un ecografo per controllare le donne in gravidanza in questo progetto è coinvolto il personale sanitario locale due estetriche che parlano la lingua del posto e conoscono mentalità e tradizioni queste ricevono un compenso dalla nostra associazione per recarsi nei villaggi tre ore al giorno per quattro giorni la settimana il progetto ha preso l'avvio a metà ottobre 2021 si fanno incontri con mamme e famiglie in cui vengono trattati i temi della gravidanza e dell'importanza di partorire in strutture sanitarie adeguate le donne incinte hanno la possibilità dopo l'incontro di essere visitate e consigliate dall'ostetrica ad ogni incontro sono presenti dalle 30 alle 50 persone per lo più donne con bambini ma anche uomini che alla fine fanno domande e obiezioni in questo primo anno di attività del progetto i risultati sono stati soddisfacenti le visite prenatali sono aumentate del 40% e i parti in struttura sanitaria più del 50% per questo l'associazione Tengo al Togo intende continuare questo progetto che riteniamo possa dare un contributo piccolo ma concreto alla riduzione della mortalità materna infantile collegata alla gravidanza e al parto per tutte le informazioni visitate il nostro sito www.tengoaltogo.it oppure la nostra pagina facebook grazie eccomi è una onlus nata dalla volontà del Masci di creare un'organizzazione capace di poter operare in modalità del tutto volontaria in attività solidali e di cooperazione oggi eccomi lavora in diversi paesi africani in Togo collabora con Tengo al Togo in progetti in ambito sanitario e scolastico da ben 15 anni in Etiopia è stato realizzato un pozzo e vengono messi in atto progetti in ambito scolastico progetti agricoli centri estivi e adozione a distanza in Zambia vengono attuate delle scuole di cucito e anche progetti scolastici e alimentari in Burundi primo paese dove eccomi è iniziato ad operare vi è la gestione di cooperative e progetti in ambito scolastico in particolare progetti di adozione a distanza per la crescita scolastica addirittura fino all'università vi è poi la scuola di cucito e la gestione di numerosi asili in particolare il sostentamento della mensa scolastica infine vi è la gestione di un atelier per donne con handicap in Burkina vengono organizzati campi di lavoro scout per aiutare la popolazione dei villaggi ora si sta cercando di costruire un pozzo infine eccomi è in prima linea per aiutare anche gli italiani in momenti di grande difficoltà in particolare è stata protagonista nel sostenere le famiglie colpite dal terremoto nel centro Italia del 2016 viene a scoprire di più sul nostro sito www.ecomi.org il centro medico di Asrama in Togo è il riferimento per i progetti sanitari della nostra associazione Ecomi Onlus con sede legale in Roma in questi 15 anni abbiamo realizzato con il personale medico locale vari progetti sanitari al momento è in corso un progetto itinerante nei villaggi sulla promozione della salute materno-infantile che si propone di far sì che le mamme accedano più numerose ai servizi sanitari per i controlli durante la gravidanza e il parto il centro medico di Asrama è dotato di un ambulatorio per le visite mediche e le terapie uno per la piccola chirurgia un laboratorio una farmacia e la maternità con sala parto sala travaglio sala visite con ecografo attualmente è possibile partorire con l'assistenza di un'ostetica diplomata e di due aiute ostetiche se però il parto richiede un intervento chirurgico la paziente deve raggiungere l'ospedale di Noce percorrendo una strada poco praticabile a ottobre 2022 quindi si è presentata la possibilità di dotare il centro sanitario di un'unità chirurgica mobile che potrà consentire l'esecuzione di interventi chirurgici addominali urgenti questo progetto ideato da Rainbow for Africa e Mission Land in Burkina Faso è stato poi trasferito in Togo essendo venute meno le garanzie di sicurezza in Burkina il blocco operatorio verrà collocato presso il centro sanitario di Asrama il progetto prevede il trasferimento di due container dal Burkina in Togo presso il centro medico il posizionamento e l'arrestimento degli stessi con relative infrastrutture per l'avvio definitivo del progetto l'associazione Rainbow for Africa invierà per alcuni mesi dei formatori sanitari la nostra associazione dovrà sostenere le spese del trasporto della costruzione della piattaforma e del posizionamento dei due container nonché dell'allestimento del blocco operatorio per conoscere tutti i nostri progetti e sostenerci seguici su Facebook Instagram o sul nostro sito www.ecomi.org grazie un saluto da IAF Piemonte Valle d'Aosta Antonio Dionisio di cui sono l'attuale presidente mi chiamo Bruna Bruni la nostra è un'associazione di avvocati che si occupa di diritto di famiglia in questo periodo si parla molto di riforma Cartabia che ha apportato modifiche sia nella giustizia penale sia nella giustizia civile la legge delega numero 206 del 2021 ha indicato i criteri direttivi ed i principi ispiratori della riforma per l'attuazione della delega in ambito civile è stato emanato il decreto legislativo numero 149 del 2022 con questo decreto legislativo sono stati riformati anche i procedimenti in materia di diritti delle persone dei minorenni e delle famiglie oggi vogliamo rispondere ad una domanda dopo la riforma Cartabia quali sono i modi per ottenere la separazione personale lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio lo scioglimento delle unioni civili e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e le modifiche delle condizioni precedentemente ottenute la risposta è questa qualora tra le parti sussistano divergenze di vedute o conflittualità che impediscono di trovare una soluzione concordata c'è il contenzioso giudiziario con l'assistenza di almeno un avvocato per parte la causa si promuove con ricorso l'udienza viene fissata ma prima dell'udienza le parti si scambiano diverse memorie con domande, eccezioni offerte di prove e controprove in modo che all'udienza il giudice relatore non più il presidente se il tentativo di conciliazione fallisce ha a disposizione molti elementi su cui basarsi per assumere i provvedimenti temporanei cioè che durano fino alla sentenza ed urgenti sull'affidamento dei figli il mantenimento e l'assegnazione della casa comune viene fissato un calendario di udienze anche per l'assunzione di eventuali prove per l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio la causa giunge alla sentenza che le parti possono però impugnare ed il contenzioso tenuto conto dei vari gradi di giudizio può durare anche diversi anni se le parti più avvedutamente invece riescono ad accordarsi per una soluzione concordata possono procedere con un ricorso a domanda congiunta con l'assistenza anche di un solo legale il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti questi possono avvalersi della facoltà di non comparire in udienza sostituendo l'udienza con note scritte però devono chiederlo nel ricorso dichiarando per iscritto di non volersi riconciliare il presidente invia al collegio per la decisione con sentenza ed è del tutto eccezionale che il collegio rigetti il ricorso se lo fa è solo perché ravvisa una lesione di interesse per i figli qualora ci sia l'accordo le parti possono anche optare anziché per la via giurisdizionale per la via della negoziazione assistita le parti devono essere assistite ciascuno almeno da un avvocato le parti concordano l'accordo che viene poi sottoscritto gli avvocati autenticano le firme e devono attestare che non c'è contrasto con le norme imperative o l'ordine pubblico la negoziazione assistita si conclude poi con il visto l'autorizzazione da parte del pubblico ministero l'autorizzazione se ci sono figli minori o maggiorenni incapaci portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti dopodiché gli avvocati provvedono alla trasmissione in comune per le annotazioni e le trascrizioni i COA cioè i consigli dell'ordine sono i custodi dell'originale possono anche rilasciare copie conformi nei casi più semplici quando non ci sono figli e non ci sono patti patrimoniali le parti oggi possono anche rivolgersi all'ufficio di stato civile dei comuni l'associazione italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori consiglia di non scegliere mai la via del contenzioso giudiziario ma di cercare di trovare un accordo che sicuramente sarà salutare per i nuclei familiari e soprattutto per i figli un caro saluto da IAF Piemonte a Valle d'Aosta Buongiorno e bentrovati a tutti io oggi sono qui a presentare l'attività dell'associazione dei malati reumatici del Piemonte Amar Piemonte che si costituisce nel 2013 già con una sezione pediatrica ed una sezione young che si occupa delle persone tra i 18 e i 35 anni perché? perché le malattie reumatiche contrariamente a quello che si crede nella maggior parte dei casi non badano all'età le prime diagnosi le ultime diagnosi che sono state fatte ad esempio qui a Torino a Regina Margherita sono su bambini di 18-19 mesi per cui assolutamente sfatiamo il mito della malattia reumatica strettamente legata all'età le malattie reumatiche sono oltre 100 molte sono malattie rare le più comuni sono ovviamente quelle di cui sentiamo parlare di più l'artrite reumatoide la spondidite anchilosante l'artrite psoriasica sono tutte malattie che pur essendo molto invalidanti se non diagnosticate in tempi corretti possono provocare delle gravi disabilità anche a livello psicologico anche perché sono molto poco riconosciute addirittura a livello pensionistico è molto difficile ottenere dei buoni riconoscimenti di percentuale di invalidità soltanto per la malattia reumatica fortunatamente si fa per dire non sono malattie che vengono da sole perché sono caratterizzate da una comorbidità molto vasta e molto varia di solito si accompagna l'artrite reumatoide a obesità si può accompagnare al diabete si può accompagnare a malattie dell'apparato circolatorio quindi tutte queste concomitanze ci consentono poi di raggiungere dei livelli pensionistici abbastanza interessanti cosa dire oggi le malattie reumatiche sono assolutamente trattabili occorre una diagnosi precoce e questo contrasta un pochettino con quello che è l'attuale organizzazione sanitaria a livello nazionale ma anche a livello regionale con un numero di reumatologi molto bassi molto basso pensate che ci sono più o meno una sessantina di reumatologi su tutto il Piemonte e quindi su una popolazione che può essere interessata al discorso delle malattie reumatiche che va intorno alle 150.000 persone per cui veramente un rapporto incredibile e sicuramente una diagnosi precoce è molto difficile però se diagnosticata in tempo e curata con delle terapie appropriate quanto prima possibile la malattia reumatica adesso è controllabile si può fermare nelle condizioni in cui si trova al momento della diagnosi e può consentire di avere una vita normale chiaramente anche le persone che sono affette da queste patologie devono metterci qualcosa di loro perché se non ci mettiamo qualcosa noi come soggetto come persona malata difficilmente le terapie possono avere dei buoni risultati questo è uno dei punti principali dell'attività dell'associazione perché effettivamente cerchiamo di creare una cultura di nuovi stili di vita che anche qua sfattino un pochettino di miti non è vero che la persona che soffre di malattie reumatiche non si deve muovere anzi più si muove e meglio è per cui ecco il progetto che è nato nel 2021 quattro passi di salute del parco ed ecco anche i progetti che stiamo portando avanti in questi giorni che prevedono anche l'intervento di animali di terapie assistite con gli animali sia per le persone mature per noi diversamente giovani sia per i bambini questo perché? perché noi dobbiamo assolutamente fare in modo che le persone capiscano che devono muoversi devono avere un'alimentazione corretta nella loro attività quotidiana e che assolutamente non devono rinunciare a nulla di quello che facevano prima della diagnosi vi ringrazio per l'attenzione e se volete saperne di più contattateci sul nostro sito che è www.amarpiemonte.org Salve a tutti mi chiamo Lori e sono presidente di Missione Saida Missione Saida nasce da un viaggio per caso nel 2008 e il nome Saida lo porta dalla nostra prima bimba adottata in Guatemala oggi Saida ormai ha 18 anni è grande ha finito gli studi ci ha dato molto entusiasmo per questo che primo progetto nasce nel 2009 e si chiama Ninos Especial Bambini Speciali diamo aiuto con terapie fisioterapie medicine tutto quello che serve a bambini disabili che vivono in famiglie di casi molto difficili e nel 2019 si è cominciato vedendo la realtà di molti bambini non la possibilità di andare a scuola quindi si è deciso di cominciare un progetto borse di studio le borse di studio cosa vuol dire che ogni bambino percepisce una vuota annuale da un padrino o da una madrina e ha la possibilità di accedere allo studio perché purtroppo in Guatemala si paga tutto pure la scuola quindi questi bambini rimarrebbero nell'ignoranza e noi abbiamo dato modo di poter realizzare questo sogno e ora i bambini con borsa di studio grazie ai donatori sono 35 nell'anno 2020 nasce il progetto nutrizionale cosa vuol dire ci siamo affiancati a un centro nutrizionale di suore della carità spagnola in Guatemala dove quando ci segnalano bambini denutriti noi riusciamo a inserirli in questo progetto ricoverarli per il tempo necessario del recupero della salute e insegnare la madre una vita normale di alimentazione corretta per crescere bene i loro figli noi siamo appena tornati dal Guatemala da una settimana dopo due mesi e mezzo di lavoro intenso per i nostri progetti e quest'anno abbiamo cominciato una relazione con le suore di San Bonifacio dove questo centro accoglie ragazzi autottoni quindi indigeni per poterli aiutare nello studio dove questo centro loro alloggiano hanno vitto alloggio ma imparano anche la vita quotidiana quindi tutto quello che deve fare la ragazza quello che deve fare il ragazzo di lavori insomma all'interno di questo centro gli danno la possibilità di studiare e avere una vita migliore bene il nostro viaggio quest'anno è iniziato il 14 di febbraio dopo 15 anni abbiamo toccato veramente la prima linea dove abbiamo potuto aiutare tantissimi bambini e tanti veramente sono cambiata la loro vita e cosa dirvi ognuno di noi dentro al cuore ha qualche cosa e ci sono giorni dove può arrivare questa scintilla e poter imparare ad aiutare il prossimo poter dare la speranza a popoli così poveri di poter cambiare la loro vita giovani che rimangono nell'ignoranza si può dargli uno studio e accompagnarli a cambiare la loro vita quindi non è facile perché dopo 15 anni di vita in Guatemala e di progetti quando noi torniamo qua in Italia ci sentiamo persone che hanno di tutto e quando vediamo la povertà assoluta e di gente che non sa come mettere insieme il pranzo con la cena veramente ci tocca profondamente e siamo stimolati a continuare nel nostro cammino e poter grazie ai donatori aiutare tutti questi bambini bene io vi ringrazio per avermi ascoltato spero che ci sia una prossima volta di rincontrarci e avere più tempo per raccontare tutto grazie a voi i programmi di rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione